Il compito che mi spetta oggi non solo non è facile, è forse il più difficile che ho dovuto affrontare e per cui in qualche modo vi chiedo un aiuto, so che me lo darete. Roberto non era credente, come molti di noi era ateo, pertanto respingeva l'idea che la vita fosse una commentatio mortis, cioè una preparazione alla vita oltraterrena, ma proprio per questo e a maggior ragione pensava che il suo significato della vita dovesse essere ben più denso, più pieno e che se una persona come lui che nella sua vita aveva compiuto la scelta di essere rivoluzionario, questa scelta dovesse impegnarlo a dare vita alla vita un senso ancora più importante ed impegnativo. Roberto sapeva che questo senso, una parte di esso, si sarebbe misurato anche con ciò che alla fine del suo percorso sarebbe rimasto in tutte le persone con cui aveva interagito, con tutti coloro che aveva incontrato. Insomma la vita, la sua vita, doveva avere un significato di per sé stesso, ma anche per gli altri e le altre. La sua vita in qualche modo doveva parlare agli altri e Roberto e la sua vita ci hanno detto molte cose, tantissime. Una delle più importanti è stata quella di rispondere ad alcune domande. È possibile dedicare tutta la propria vita all'obiettivo di cambiare il mondo, di rivoluzionarlo, di renderlo giusto, libero dallo sfruttamento e dall'oppressione e nel contempo viverla pienamente costruendo relazioni umane ricche, profonde, appaganti, piene? È possibile dedicarsi completamente alla lotta di classe, alla lotta per il rovesciamento del capitalismo, delle sue ingiustizie, della sua violenza, senza perdere la capacità di stare con gli altri e le altre, di provare la gioia della loro presenza, di offrire la gioia della propria? È possibile impegnare anima e corpo a costruire quel movimento reale che abolisce lo stato delle cose, che chiamiamo comunismo e al tempo stesso vivere, amare, divertirsi, avere dei figli, godere il più possibile di quel mondo che pure si vuole cambiare così radicalmente? Roberto ha risposto a tutte queste domande e ha risposto con un gigantesco sì, è possibile e non lo ha fatto scrivendo libri, forse avrebbe anche potuto, ma non lo ha fatto filosofeggiando, lo ha fatto semplicemente vivendo e questo messaggio io lo trovo assolutamente straordinario. Ho conosciuto il giovane Roberto Rossetti, il 26enne Roberto, 31 anni fa, nelle riunioni del CUP, del Comitato Universitario per la Pace, quello che colpiva subito di Roberto e non solo a me, era una cosa che molti altri e altre, anche molti compagni, non riescono ad imparare in tutta una vita. La capacità di costruire relazioni, non si trattava di costruzioni artefatte, quelle che deve avere un buon militante per essere attrattivo e conquistare ascendente, era proprio un suo modo di essere, di porsi nei rapporti con gli altri e le altre, di concepire i rapporti con le persone, specie se compagni, ovvero coloro con cui doveva dividere la lotta e le sue fatiche. Non so se fosse una sua capacità innata, probabilmente una parte lo era, ma l'altra era frutto di riflessione e di ragionamento su quale fosse il modo più giusto, non il più conveniente, di intrecciare le azioni. Davanti a Roberto era facile sentirsi subito a proprio agio, nessuna spocchia, nessuna alterigia, nessuna pretesa di prevaricazione. Anche nelle discussioni più complicate, Roberto si sedeva davanti a te e ti faceva capire che il confronto era alla pari, che era disponibile chiunque tu fossi a raccogliere quanto di vero, di utile, di giusto c'era in quello che sostenevi, a condizione che tu ti ponesse nello stesso modo. Ti allargava quel sorrisone che gli inarcava gli zigomi e gli faceva brillare gli occhi e la discussione poteva cominciare. E alla fine della discussione, ma anche durante, finiva quasi sempre che ci si divertiva. Di solito queste sono modalità che si acquisiscono solo dopo un lungo training, ma il 26enne Roberto sembrava ne fosse già pienamente in possesso. Allora non era difficile, anche per chi come me in quell'epoca militava in un'altra organizzazione, ricercare continuamente Roberto, la possibilità di lavorarci insieme, di fare delle cose insieme, oppure chiedere che ne pensa Rossetti. Su questo bisogna sentire Rossetti, anche quando il settarismo di organizzazione avrebbe suggerito di saltare il passaggio. Capirete perciò come non sia stato affatto difficile per me, ma vedo praticamente per molti, instaurare un rapporto che andasse oltre la riunione, l'iniziativa, la manifestazione. Questa capacità Roberto l'ha mantenuta in tutta la sua vita, in ogni passaggio, anche in quelli veramente difficili e laceranti o quando si trovava in presenza di situazioni decisamente ostili. Gli anni in cui ho conosciuto Roberto erano quelli terribili del riflusso. fare, ancora si diceva, militanza politica era considerato da molti una cosa inevitabilmente retro, dei sognatori fuori tempo massimo, oppure una cosa da tonti. A chi lamentava in questi ultimi anni le difficoltà di definirsi comunisti, oggi senza essere respinti, Roberto amava ricordare loro quegli anni e dire ne abbiamo dovuto spalare di merda per farci largo e proseguire il nostro percorso. Erano gli anni del classismo, dei governi pentapartito, gli anni in cui la borghesia aveva cominciato a smantellare le conquiste storiche del movimento dei lavoratori. Gli anni dopo i 35 giorni della Fiat, all'inizio dell'abolizione della Scala Mobile. In quel clima non certo favorevole ai rivoluzionari, un clima che tendeva ad essere sempre più reazionario, a Roberto venne proposto dai suoi compagni di fare il funzionario di un piccolo gruppo politico rivoluzionario. Una cosa apparentemente folle, un mestiere in controtendenza di un gruppo in controtendenza con un aggettivo in controtendenza. Una cosa da rimanerci stecchiti. Roberto invece accetta, con lievità, con consapevolezza, con passione, sempre con quel suo sorriso che gli disegnava il viso. Questo perché per Roberto la politica non avrebbe mai dovuto essere un mestiere, perché per Roberto la politica era il completamento della sua personalità. Non era un aspetto compartimentato, separato, di uno che, come si dice, ha le sue idee e poi nella vita fa invece altre cose, magari del tutto in contrasto con quelle stesse idee. Insomma, parafrasando il C, la politica o era rivoluzionaria o era una caricatura di politica. Roberto fin da giovane, intuisco anche se non lo conoscevo, sin da adolescente, ha intrecciato un forte senso etico acquisito dalla estrazione operaia della sua famiglia, alla coscienza di classe e dall'urgenza di cambiare, di rovesciare nelle sue radici la società. E tutto questo non poteva aversi se non con un impegno in prima persona, con il mettersi in gioco, con delle scelte che ai timorati sembravano azzardate. Invece a Roberto tutto questo sembrava un'opportunità di sviluppare e di spiegare la sua vita, proprio perché nella sua concezione la militanza non comprimeva le relazioni, gli affetti, i divertimenti, la felicità, ma anzi era un luogo in cui svilupparle pienamente queste cose. È così che vedi nascere il funzionario politico più atipico che abbia mai conosciuto e che si sia mai visto. Insieme a Mauro Vargiolo, che, quanto atipicità, fa già di suo, formarono una coppia pazzesca. Nel giro di pochi anni costruirono, da poco o nulla, con il contributo di tutti gli altri naturalmente, quella che Salvatore ha definito nel suo articolo su Roberto un gioiellino. L'OGR, una piccola organizzazione giovanile che ha segnato profondamente in quegli anni la scena politica romana, formando molti quadri che ancora oggi, nelle difficili circostanze del presente, non si sono arresi e continuano il loro percorso di militanza. Roberto trasmetteva una serenità, una convinzione che ancora mi restano impressi nella memoria. Univa la capacità del fare a quella dell'elaborare. Trasmetteva serenità, convinzione, allegria e entusiasmo. Eravamo poche decine, ma sembravamo centinaia per la capacità di intervenire e di essere presenti su tante cose. E poi studiavamo. Non credo che nessuno meglio di Roberto mi abbia insegnato con la pratica il significato dell'accezione gramsciana dell'organizzazione come intellettuale collettivo. Roberto aveva una cultura, non solo politica, veramente notevole. La sua passione per i libri e la parola scritta è nota a tutti. I suoi scaffali pieni di volumi che lui vostrava con orgoglio, specie nei suoi pezzi rari, non erano certo oggetti di arredamento. Se vuoi cambiare il mondo devi conoscerlo, devi sapere la storia della tua classe sociale, la storia della lotta di classe, avere una visione a tutto tondo della cultura in cui riusciva a mettere dentro anche i fumetti come il suo Ken Parker, il socialista del West. Sono debitore a Roberto di questo amore per la trasmissione dell'intelligenza che a sua volta mi ha trasmesso con tanto entusiasmo. Roberto aveva conosciuto Livio Maitan nel 1975, quando aderisce alla quarta internazionale nella loro sezione italiana, il GCR. Livio aveva fatto capire a Roberto la natura della burocrazia nel movimento operaio, di come dalla grande rivoluzione di ottobre fosse esorta l'escrescenza di una casta che aveva maturato interessi distinti ed opposti a quella classe in nome della quale operava, fino a distruggere la rivoluzione stessa dall'interno e screditare il movimento intero. Roberto sapeva anche che la burocrazia del movimento operaio era stata un'invenzione della socialdemocrazia prima ancora. Questi concetti Roberto ce li aveva dentro e rifugiva come la peste ogni possibile atteggiamento burocratico o prevaricante nella vita interna dell'organizzazione. La cura della democrazia interna aveva per lui la stessa importanza della cura del rapporto personale con ogni singolo compagno e compagna. Chi non conosce la storia di Roberto non può sapere quanto Roberto stesso avrebbe pagato in futuro questa sua convinzione etica e politica. Nel giro di poco tempo la LCR e la sezione della quarta internazionale confluì in dp, un'esperienza nella quale Roberto si immerse subito con grande capacità, trasferendo subito su una scala un po' più grande quanto aveva sperimentato nella costruzione dell'OGR e dell'LCR. Costruì quelle stesse relazioni umane e politiche che aveva implementato prima e conquistò rapidamente stima, simpatia e affetto da tantissimi e tantissimi militanti, diversi dei quali sono oggi qui a ricordarlo. Ma quando nel 91, con la nascita del PRC, Roberto assieme a tutti noi sostende la necessità di confluirvi, ma senza rinunciare ad abdicare al patrimonio storico e politico e teorico della sinistra rivoluzionaria, conducendo così come tutti noi una battaglia di minoranza, fu allora che, come si dice con un termine orrendo, trombato. Fu casualmente l'unico funzionario di dp a non essere assorbito dal PRC. Fu lasciato ormai a 35 anni appiedato e senza reddito. Delle piccole burocrazie di risulta si erano in qualche modo vendicate di una presunta pericolosità di Roberto. Pensate che Roberto, nonostante quelle circostanze così difficili, abbia perso il sorriso o la capacità di relazione sana e non opportunistica con le persone? Pensate che si sia ripiegato su se stesso? Avete sbagliato di grosso. Andò a lavorare in libreria e si iscrisse al PRC, al Circo di San Lorenzo, come semplice militante. Perché per lui, tra il semplice militante e il funzionario, l'unica differenza è il grado di responsabilità, ma non il compito. Adesso vi prego, trovatemi un altro che sia oggi disposto a pagare prezzi molto minori di quello, per difendere quello in cui crede. E trovatemi un altro disposto a sopportare questo peso senza perdere l'umanità, il sorriso e la passione. Roberto, come me e come molti altri di noi, trascorre 16 anni militando nel Partito della Rifondazione Comunista. Un partito stavolta, non una piccola organizzazione, un partito che aveva decine di migliaia di iscritti, migliaia di circoli e qualche posto, prima pochi, poi molti di più, che facevano una certa gola libidinosa a candidati burocrati di ogni sorta. Una situazione più difficile per le istanze della Quarta Internazionale. Si tratta di conquistare spesso una dignità che alcuni avrebbero voluto ci fosse negata. Tutti noi conducemo più volte, nei primi anni, battaglia di minoranza contro la malattia che alla fine distrusse il Partito e che ci costrinse ad uscire. Il governismo e le periodi politiche compromissorie con l'avversario di classe. Roberto non cambiò una virgola nel proprio atteggiamento di fondo. Roberto ha vissuto questi 16 anni di militanza nel Partito della Rifondazione Comunista come un'esperienza straordinaria dal punto di vista umano e politico. Molti di noi qua dentro, insomma, hanno trascorso tutta quella fase e non solo ne hanno apprezzato le capacità dal punto di vista umano, ma anche ne hanno apprezzato le capacità politiche, ha ricoperto diversi incarichi dentro al partito. Lo ha fatto sempre con una lealtà, con un'unestà che ha caratterizzato tutta la sua vita e tutta la sua militanza politica, senza sostanzialmente chiedere mai nulla in cambio, senza chiedere in qualche modo di avere insomma un corrispettivo del suo impegno, un corrispettivo dello suo straordinario coinvolgimento. Questa cosa qua, diciamo, spesso qualcuno ne ha approfittato, insomma, in un'esperienza come quella di Rifondazione. Ma lui sostanzialmente non si è neanche per un attimo piegato da questo punto di vista. Ha ragione Salvatore, sempre nel suo articolo, diceva che per lui era assolutamente sufficiente che un progetto collettivo proseguisse con successo, senza che ci fosse necessariamente un corrispettivo per lui. Corrispettivo che non ha mai trovato. Come sapete, se non sbaglio l'anno, posso farlo anch'io, insomma, nel 97 Roberto va a lavorare con Salvatore Bonadonna all'assessorato alla Regione. Lascia il suo lavoro dell'ibraio che aveva nel frattempo fatto e anche lì si dedica, insomma, con una dedizione tutta particolare, con una dedizione neofitica quasi, a quel tipo di lavoro senza assolutamente sovrapporlo alla militanza. La militanza era un'altra cosa. La militanza va fatta fuori dalle stanze, va fatta fuori dagli uffici, va fatta fuori dalle sedi istituzionali. E in quegli anni nasce quello straordinario sodalizio che tutti e molti di voi hanno conosciuto con Francesco Babushi, che era diventato già consigliere regionale nel 96. Un sodalizio bellissimo, era un rapporto assolutamente straordinario, che è durato fino alla scomparsa di Francesco nel marzo del 2001. Ha segnato così profondamente quel rapporto Roberto che ha voluto, insomma, ha proposto e ha voluto che il circolo fosse dedicato per l'appunto a Francesco. Era quella straordinaria relazione, insomma, tra l'ormai ex giovane militante e il pezzo storico della classe operaia romana, di quella che aveva fatto un altro pezzo di storia importante di questa città, un altro pezzo di storia importante della lotta di classe nel nostro paese. Un rapporto assolutamente meraviglioso. Alla fine di questa esperienza, insomma, Roberto è di nuovo in qualche modo, tra virgolette, a piedi. Non è neanche in questo caso una tragedia per lui. Nel 2001 lo chiamammo a viva voce, insomma, dovendolo quasi spingere, dovendolo quasi trascinare a fare l'assessore alla scuola in questo municipio, questo piccolo, il più piccolo di Roma, il terzo municipio. Ricordo benissimo, insomma, fuori al circolo, appena dopo le elezioni del 2001, Roberto dire no, 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 guardate compagno, non insistete più di tanto perché io non ce la faccio, perché è un compito troppo difficile, forse non sono capace, forse non sono capace, eccetera. Beh, guardate, in questo senso, su quell'esempio lì, lui veramente accettò solo e soltanto perché i compagni e le compagne glielo chiesero, perché era importante, come poi si è verificato, che lo facesse. Fosse dipeso da lui, lui avrebbe continuato a fare quello che aveva fatto fino a quel momento. Eppure, una volta che fu chiamato, e fu chiamato collettivamente a essere investito di quel ruolo, lo fece non soltanto con impegno straordinario tipicamente suo, ma lo fece con la consapevolezza, insomma, di quanto fosse rischioso per un rivoluzionario, quanto si fosse rischioso per un comunista conseguente rivestire un incarico istituzionale senza scivolare nel cretinismo parlamentare o senza scivolare nell'opportunismo, da questo punto di vista. Quello che ha ucciso Roberto, sapete, è stato un tumore. Ci ha lottato fino all'ultimo, l'ha combattuto, ma quel tumore dell'animo, che è l'opportunismo, non è mai riuscito a attaccare Roberto, neanche da lontano. Quella cosa, insomma, che distrugge tutte le più sane intenzioni, insomma, che è quella di in qualche modo di adattarsi a questa logica del presente, è una cosa che era non solo del tutto estranea a Roberto, ma che ti aiutava, Roberto, a darti gli anticorpi per combatterla, gli anticorpi per riuscire a tenerla lontana, attraverso un'opera che era anche di educazione politica, ma che sostanzialmente era l'esempio della sua vita pratica. E guardate, non è un segreto per nessuno che se nel 2008, per pura questione, insomma, Roberto, tra virgolette, avesse cambiato bandiera, avesse accettato la candidatura di qualsiasi altro partito, sarebbe stato di nuovo eletto, avrebbe ricoperto cariche istituzionali, eccetera. Roberto non ci pensa un attimo a questa cosa. Gli avevano in fondo quasi fatto capire, che avevano in fondo quasi offerto. Roberto, quando si esaurisce la vicenda di rifondazione comunista, stringe la mano a tutti, lascia l'assessorato e ricomincia, fa un nuovo inizio, ricominciando da un piccolo gruppo politico, come aveva fatto, insomma, negli anni in cui ho conosciuto, come aveva fatto nella sua gioventù. Io su questo mi sono permesso di trovare una cosa che sapete quanto Roberto amasse i libri? Ce n'era uno che amava particolarmente e a proposito di questa vicenda, è la trilogia di Deutscher su Trotsky, alla fine del secondo volume, dove Deutscher, per descrivere, insomma, la situazione di Trotsky, insomma, la battaglia dell'ultima, quella del 27, disse, non trovò una citazione, non trovò Marx, Lenin, trovò una citazione di Nietzsche. Se volete una biografia, non cercatene una con la dicitura il signor tal dei tali e i suoi tempi, ma una che porti il titolo, un combattente contro il suo tempo. Se la storia fosse soltanto un vasto sistema di passioni e di errori, l'uomo dovrebbe leggerla al modo in cui Goethe desiderava che venisse letto il Werther, proprio come se la sua morale fosse, si uomo e non mi seguire. Ma fortunatamente la storia mantiene vivo anche il ricordo dei grandi combattenti contro la storia, cioè contro il cieco potere dell'attuale, ed esalta la vera natura storica degli uomini che si preoccuparono molto poco del così è, per poter seguire con un così deve essere, con maggiore gioia e orgoglio. Non trascinare la loro generazione nella tomba, ma fondarne una nuova. Questo è il momento che li sospinge sempre avanti. Roberto è stato un uomo contro i suoi tempi, un uomo che è un compagno, un amico, un fratello che ha combattuto contro il cieco potere dell'attuale, che ha combattuto Roberto queste cose non le fa, inizia questo nuovo percorso e lo inizia in qualche modo senza il demone dei numeri, cioè quella sensazione che essendo in pochi comunque nulla potrà cambiare, nulla si potrà costruire. Questo demone non ce l'ha, quando diciamo così nel 78-79, certo ancora molto giovane, d'accordo, però in qualche modo decise di ricostruire l'allora sezione italiana, i GCR insomma, poi l'LCR dopo la crisi spaventosa del 77, lo fa come sapete, ce ne sono alcuni qua di compagni, con un gruppetto parecchio ristretto, insomma, con un numero, diciamo così, che è da torneo di 3-7 sostanzialmente, eppure lo ha fatto con i risultati che crediamo. E fu per questo che con quell'entusiasmo affrontò l'esperienza di sinistra critica, affrontò l'esperienza di costruire il piccolo circolo del tufello, insomma, dopo che aveva finito la sua ambito di militanza a San Lorenzo. E lo ha fatto, insomma, coinvolgendo, sicuramente, compagni e compagni molto più vasti, insomma, che non il gruppo, il nucleo di San Lorenzo. Ma io su questa cosa del... in realtà è storia molto recente, la conosciamo tutti da questo punto di vista. Nell'88 con Roberto andammo insieme, come molti altri compagni di Roma, a un'iniziativa che concludeva una campagna nazionale dell'LCR. Sul 68 si tenne a Milano, alla Sala della Provincia, e lì sentimmo l'unica volta una frase detta nella relazione finale di Livio, che Livio stesso riporta nella sua biografia. A me e a Roberto li piacque tantissimo, insomma, a proposito di come si possa costruire e ricostruire la speranza anche a partire dai condizioni date quando non sono favorevoli. Era una frase di Fromm e Livio la concepiva nella sua biografia quasi come il suo epitaffio. Diceva, la speranza è paradossale. Non è né passiva attesa né irrealistica forzatura di circostanze che non possono avverarsi. È come la tigre rannicchiata che salta solo quando è il momento. Lo stanco riformismo e l'avventurismo pseudo-radicale non sono espressioni di speranza. Sperare significa essere pronti in ogni momento a ciò che ancora non è nato e anche a non disperarsi se nulla nasce durante la nostra vita. Non vi ha senso alcuno nello sperare in ciò che esiste o in ciò che non può svilupparsi. Coloro che hanno poca speranza scelgono gli agi o la violenza. Coloro che sperano ardentemente vedono o amano ogni segno di una nuova vita e sono pronti in ogni momento ad aiutare la nascita di ciò che è pronto a venire al mondo. Questo era il senso della speranza. L'abbiamo condiviso insieme con Roberto. Abbiamo parlato tante volte di questa frase. Questo è il senso profondo che lui dava al suo agire, al suo operare. Non la speranza astratta, ma la voglia di costruire e la voglia di sperare su qualcosa di concreto. Io mi rendo conto che fino a qui ho detto tante cose di Roberto, ma che non ho parlato dell'amico Roberto, perché è forse la cosa più difficile. E in quanto difficile ho scritta questa cosa. È la cosa più difficile perché per Roberto i rapporti con le persone non erano uno standard indistinto. Non forgiava i rapporti con un conio invariabile. Roberto considerava e valutava molto l'unicità di ciascuna persona. Amava la loro diversità e la varietà, salvo, è ovvio, se questa non entrava in contrasto con i suoi principi etici e politici. Roberto ha avuto molti rapporti di amicizia intensissimi, con compagni, compagni, ex compagni, ex compagni, amici e basta. Ma mi è difficile parlare dell'amico con i termini che vadano bene per tutti, cioè in un modo in cui possono riconoscersi tutti. E questo perché, e vi assicuro che Roberto ci teneva tantissimo a questa cosa, considerava ogni relazione di amicizia nella sua unicità e riproducibilità. Roberto non cercava di torcere i rapporti in funzione di un modello, ma ne rispettava la specificità. Io sull'amico Roberto posso trasmettervi soltanto queste cose. Io con Roberto mi sono divertito come un pazzo, da sempre, da subito, dalle feste improbabili dei primi anni in cui ne succederanno di ogni, per informazione chiedere ad alcuni dei presenti, fino alle assai più pagate vacanze sarde che tante volte ci siamo concessi in anni recenti. Sì, perché Roberto era una persona divertente, con uno straordinario senso dell'ironia, tutto romano, anzi tutto San Lorenzino. Cogliere il lato ironico, l'aspetto comico e ridanciano delle situazioni, era per me insieme a lui uno dei diletti che ricorderò sempre con una nostalgia folle. Faceva parte della capacità di cogliere un aspetto della bellezza della vita che lui amava per intero. Roberto ti concedeva la libertà di prenderlo in giro, di scherzare su di lui, se lui poteva fare altrettanto. Era la piacevolezza dello stare insieme. Roberto era una persona attenta agli altri. In trent'anni amicizia non si è concesso disattenzioni su questo e sulla vicinanza affettiva neanche durante la fase della sua malattia, in cui legittimamente avrebbe potuto dare priorità ad altro. Un confronto continuo, uno scambio umano, politico, personale, affettivo che, perdonatemi, ma non riesco a descrivere con parole adeguate. Roberto voleva e lavorava affinché lui diventasse sostituibile, fungibile sul piano del lavoro politico, ma dal punto di vista dell'amicizia e del rapporto umano non potrà mai esserci alcuna fungibilità o qualcuno o qualcosa che possa sostituire quella qualità di reazione. Il voto per me sarà veramente incolmabile da questo punto di vista. Ed è anche con quel tipo di approccio, ripeto, personale, politico, umano, eccetera, che Roberto ha affrontato questi ultimi due anni, gli anni della della sua malattia. Roberto sapeva di non avere tanto, sapeva quanto, ma sapeva di non avere tantissimo tempo. Sapeva quindi che quello che doveva fare, quello che doveva lasciare, quello che doveva trasmetterci, doveva comunque essere fatto in un lasso limitato di tempo. Raddoppiò i suoi sforzi, in realtà, raddoppiò il suo impegno, anziché chiudersi, come avrebbe anche potuto fare in se stesso, insomma, in alcune piccole cose, in realtà ha cercato in tutti i modi, attraverso la sua vita, attraverso il parlarci di sé e il parlarci di quello che faceva, insomma, di trasmetterci potentemente un messaggio, di darci urgentemente un'indicazione, un'indicazione di vita da questo punto di vista. E l'indicazione è questa, e non è diversa da quello che ho detto all'inizio. L'indicazione è qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa mi accada, continuate a lottare, continuate a lavorare per cambiare questo mondo, continuate ad amare, continuate a vivere intensamente, continuate, continuate a costruire per l'appunto quel movimento reale che deve abolire lo stato esistente delle cose e che noi chiamiamo comunismo. Continuate, perché quella in realtà non è una cosa in contrasto col godere pienamente del mondo, del godere pienamente della vita. Questa cosa qua Roberto ce l'ha quasi urlata in questi due anni. Ha affrontato le cose, anche la sua militanza, con un entusiasmo e con una capacità che quasi facevano pensare che fosse completamente guarito. Molti mi hanno detto qui stamattina stessa, ma io non sapevo niente, io l'avevo visto attivista, l'avevo visto fare diecimila cose, insomma. Eh sì, l'avete visto esattamente così? Perché era così? Perché ha voluto che fosse così. Certo, questo è il messaggio di fondo e questo è, diciamo, anche lo spirito con cui ha affrontato questi ultimi mesi che sono stati difficili dal punto di vista politico, insomma, con la conclusione della vicenda di sinistra critica e l'avvio di quella di sinistra anticapitalista. Però su questo voglio dire soltanto una cosa. Roberto di tutta questa vicenda ha sofferto in particolare un aspetto, insomma, quello di essere accusato, essere sidentito di dibattito un po' datato, un po' diciamo portatore di una modalità un po' vecchia, un po' stagionata, insomma, di condurre le cose. In realtà vi dico questo, magari non risulterà a tutti, però Roberto era assolutamente un innovatore. Era un innovatore nel linguaggio, era un innovatore quindi non soltanto nei rapporti, ma era un innovatore, era un compagno che cercava costantemente la ricerca e l'innovazione. La ricerca e l'innovazione perché sapeva che il linguaggio doveva cambiare, perché bisognava parlare con persone diverse, perché c'erano stati dei mutamenti all'interno della classe e si rapportava a tutte queste cose qua. Se non fosse stato un innovatore, già dalla gioventù non sarebbe mai nata l'OGR, non sarebbe mai nata la vicenda quella. Probabilmente se non fosse stato un innovatore in questa modalità, la maggior parte di noi che stiamo qua dentro neanche si sarebbe conosciuta, neanche avrebbe conosciuto lui e neanche ci saremmo conosciuti fra di noi. È stato invece quel tipo di capacità di innovare, insomma, che ci ha messo anche in comunicazione fra di noi e ci fa stare così in tanti oggi qua dentro. Ma allora che cos'era, diciamo così, che forniva talvolta questa immagine di Roberto così, secondo me, poco rispondente? Era una cosa, era il rigore, il rigore. Roberto era una persona rigorosa, Roberto era un compagno rigoroso e significa che il vaglio critico a cui dovevano passare le cose non era fatto semplicemente da un setaccio, da una griglia interpretativa, insomma, che tutto filtrava, era immobile e inamovibile. Era dinamica da questo punto di vista, ma il senso critico sotto questo punto di vista non poteva essere mai abbandonato in nome, insomma, di innovazione semplicemente astratte. Però questo rigore da chi aveva... lo diceva lui, non è una mia interpretazione, che il suo esempio era sempre e di nuovo ancora Livio Maitan, in questo senso. Cioè, quando Livio Maitan parlava del wishful thinking, cioè devo scambiare e proiettare i propri desideri sulla realtà, Roberto inorridiva, insomma, e si tirava assolutamente indietro e quindi tendeva, diciamo così, a utilizzare quella griglia interpretativa. Per cui Roberto ha proseguito fino alla fine, fino all'ultimo e in qualche modo in questo tipo di battaglia, lasciandoci e lanciandoci quei messaggi continuamente che vi ho detto prima. Continuate. Ovviamente la perdita di Roberto... non c'è un sostituto di Roberto. Io dico semplicemente questo. Dobbiamo essere tutti un po' di più Roberto. Dobbiamo far sì che... vedete, Roberto non è che ci lascia un'eredità... la sua eredità, insomma, è come ha curato i libri alla biblioteca del Centro Studi Livio Maitan, per esempio, da quel punto di vista. Roberto è... l'eredità di Roberto è la sua enorme mole di lavoro. Ma quello che Roberto ci lascia dentro non può essere semplicemente posto nell'angoletto della sfera dei ricordi, dei bei ricordi. Noi dobbiamo qui scegliere, tutti quelli che stiamo a quelli che non sono venuti, dobbiamo scegliere una cosa. Dobbiamo scegliere se... seppellire Roberto, sia pure con l'amore, gli onori, le cose, la commozione, insomma, che ci accompagna, oppure se farlo vivere. Farlo vivere significa in realtà non solo continuare per inerzia, ma significa in qualche modo introiettare quello che lui ci ha fornito, introiettare quello che lui ci ha dato e riportarlo fuori di noi. Riportarlo fuori di noi. D'altra parte, il messaggio è nitido. Abbandonate... ciascuno abbandoni le proprie meschinerie, il proprio particolare, eccetera. Si metta a disposizione questa bellissima impresa, che è l'impresa di cambiare il mondo, che è l'impresa di fare la rivoluzione, che è l'impresa di fare la società più giusta, senza oppressione, senza sfruttamento, senza guerre. Questo è quello che voleva Roberto. Ma per fare... se Roberto ci ha colpito così tanto, che oggi siamo così qua in tanti, e lo piangiamo così in tanti, significa, insomma, che in qualche modo dobbiamo tutti noi essere un po' più lui. Dobbiamo farlo vivere non soltanto dentro come ricordo, ma farlo vivere come prassi, come intelligenza, come capacità, cambiandoci e migliorandoci noi stessi. D'altra parte, Roberto non ci ha mai lasciato incombenze semplici. Per cui questa cosa non è affatto facile. Però io credo che non ci sia modo migliore, più efficace, più giusto, insomma, di onorarlo da questo punto di vista. Io credo una cosa in questo senso, e voglio concludere con questo. che il senso più giusto che abbia... è la cosa più giusta che abbia legato insieme la vita, la militanza di Roberto, l'essere così, come l'abbiamo conosciuto, assolutamente straordinario, un amico, un fratello, tutto... tutte queste cose insieme, che sono una combinazione incredibile, straordinaria, si era chiusa anche in parte in questa cosa che vi sto per leggere. E io la voglio dedicare perché... credo che se la meriti tutta, anche se la citazione è grossa, non vi dico che tanto lo capite. Per 43 anni di vita consapevole sono stato rivoluzionario. Per 42 di questi anni ho lottato sotto la bandiera del marxismo. Se dovessi ricominciare da capo, cercherei certo di evitare questo o quell'errore, ma il corso generale della mia vita resterebbe immutato. Morirò rivoluzionario, proletario, marxista e materialista dialettico, e di conseguenza ateo e inflessibile. La mia fede nell'avvenire comunista dell'umanità non è meno ardente, al contrario è più ferma che ai tempi della mia gioventù. Natasha è appena andata alla finestra che si affaccia sul cortile per aprirla di più, in modo che l'aria circoli più liberamente nella mia camera. Posso vedere l'ampia striscia d'erba verde lungo il muro e il cielo azzurro a di sopra del muro, e la luce è il sole che inonda tutto. La vita è bella, che le generazioni future la liberano dal male e da ogni oppressione e violenza e ne gioiscano pienamente. Grazie di tutto, Roberto. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti